Appena uscito dallo scrigno della Disney, Tarzan, per la prima volta in Disney DVD edizione speciale in due dischi. Provate il viaggio senza tempo di un uomo destinato a trovare se stesso e il proprio cuore. Tu appartieni a noi, alla gente. Più avventura. Sono stata salvata da un salvaggio volante con un perizoma. Più divertimento. Lasciami, lasciami. E più sorprese che mai. Sei sicura che quest'acqua è pura? Ma le avventure di Tarzan continuano anche dopo il film, con tanti contenuti speciali mai visti prima, tra i quali scene eliminate, giochi e tante altre cose. Lo spazio è arrivato! Inoltre, un'anteprima esclusiva di Tarzan 2, prossimamente. Non ti picchiare, non ti picchiare! E a tuo cuore che... Sei tornato a casa mia. La leggenda entra in casa... ...per la prima volta. Tarzan, in Disney DVD edizione speciale in due dischi.